Ciao! Ah no, scusami. Ciao! E benvenuti su MyFootballGersey. Oggi vedremo insieme la maglia da trasferta del Manchester City per la stagione 22-23, quella che deve ancora incominciare, in edizione FUN! La maglia da trasferta Puma Manchester City 2022-23 combina i colori Puma Black, Tango Red e Giallo. Il rosso e il nero sono gli stessi colori utilizzati da Puma per il Milan per le divise casalinghe, con l'unica differenza che il nero è il primo colore del City. La maglia da trasferta Manchester City 2022-23 non presenta le classiche strisce verticali nere e rosse del club, ma strisce diagonali, le prime nella storia del club. La maglia ha un colletto nero con scollo a V con maniche nere semplici. Lo stema del club e di Puma e i luoghi dello sponsor appaiono in giallo. Le strisce continuano sul retro della maglia. Eccomi qua! Cosa ne pensate della maglia? Nella mia classifica questa prende 5 stelle. Devo dire, veramente molto bella, fatta veramente molto bene, rifinita in ogni dettaglio, in ogni particolare. Incredibile, si trovi soltanto al costo, che vedete qui sopra, incluso spese di spedizione. Peraltro vi ricordo che in descrizione, qui in basso, trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia e trovate anche un link per potervi registrare sul sito e ottenere un buono da 5 dollari e quindi il costo diminuisce ulteriormente. Un vero affare. Peraltro, la spedizione è stata veramente molto veloce. Normalmente impiegano 3-4 settimane e questa maglia è arrivata in 16 giorni. Incredibile! Ora, prima di lasciarvi la parte in cui vedete la vestibilità, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale per avere altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie per la visione!